Té house. Vuoi un tè? Dai, prendiamo il tè. Inquadro, vago e entriamo. È caldo o freddo? È caldo. 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 È caldo o è caldo? È caldo. Allora. Dove buttavo la caldo? Ho preso questa decisione di andarci perché l'anno scorso volta con Gianluca in un'isoletta, praticamente dentro un parco vicino a Tiquidi. Quest'anno non ti porto perché non ho tempo. E ora lo facciamo qua. Si sbagliano le scarpe e ci vediamo dentro. Ci ha appena portato il tè ma non l'ho potuto riprendere perché è stata velocissima. E l'ho messo così anch'io come lei fa malissimo le gambe perché ho delle gambe che sono un chilometro e mezzo, per fortuna. E ce l'ho appena portato. Allora il dolcetto che è diverso da quello che ho fatto l'anno scorso e già ne sono contento. E poi il tè verde, tradizionale della cerimonia. Allora siamo in questa stanza bellissima. Grazie per fortuna diciamo che sono tutti fuori, non c'è nessun mio butto allungarmi perché stare così c'è da soffrire. Poi tatami, stanza molto bella. E adesso zoomamelo, zoomamelo se no. Dai zoomamelo. Ti do tre secondi. Uno, due, tre. Niente, devo avvicinarmi. Ah, attenzione. Che bravo. Una specie di Buddha l'altarino. Vasi tradizionali. E' incredibile ma fa freschissimo perché ce l'ha ricondizionata. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Ce l'ha ricondizionata e si sta bene. Dai assaggia il... ho scelto il tè freddo. Ah, ok. E' freddo, no? Vieni che è freddo. Sì. Quello l'altro. E' spessissimo la mano. E' quello del tarito. E' diverso dal tè normale. E' buono. Molto. Ok. E' diverso. Tieni, inquadra fuori intanto se si vede qualcosa che c'è anche il giardino fuori. Intanto devi preparare ad assaggiarlo. E' dentro più caratteristico se sta fuori, ah? Eh, ma dentro d'estate non so quanti. Allora, quando ti dava il tè faceva. Quindi te lo stava male e poi... Si, se lo girava. Se lo girava. Perfatti lo tivo vedeva tutto, non lo so. No, si inchinava poi. Si inchinava e te lo dava. Una figata. Vai. Allora, il gusto è molto intenso. E' intenso. Però se lo assaggi non è forte. Non è che non è forte. E' molto amaro, ma come deve essere. Dovrete il vino al cerimono. Assaggia il dolcetto. Il dolcetto è bellissimo. L'hai inquadrato? Eccolo qua. Dove hai fatto lo zoom? Si. E' bellissimo. Ci sono le nuvole e il tempio d'oro. Esatto, e ci sono due fogliette d'oro. Secondo me è morbido. Allora fuori, tipo la fisi di buffer, morbido. Dentro, indovina? Mochi! No? No, fagioli. No, fagioli. E vai con fagioli. Buono? Sì. Questi sono i biscotti di vostro bianco. Questo sarà il livello eccesso. Ok, è un supermercato che trovi tipo con il buffer, non morbido. Non ce la faccio più stare così. Non così, ma duro e con dentro il mochi. Sì, cosa di fagioli. Buono? Sì. Saluta? Sì. 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 Sì.